Cantieri che cambiano Castellabate per conoscere la localizzazione, l'importo e la descrizione consentendo a tutti di visionare in tempo reale le azioni di ammodernamento, riqualificazione e urbanizzazione ad opera dell'ente Noi abbiamo creato una carta che viene postata sul sito istituzionale del comune di Castellabate dove il cittadino attraverso il click del proprio computer da casa o dello smartphone potrà vedere i lavori che si eseguono a Castellabate in sintesi si troverà una mappa del territorio con dei triangolini dei cantieri in corso e azionando, pigiando su questo triangolino si ha la possibilità di essere documentato dell'entità dei lavori, della direzione dei lavori, del costo del lavoro quindi avrà quanto più notizie possibili sulle attività insomma l'abbiamo fatto in questo momento perché siamo in un momento particolare dove Castellabate oggi conta 18 milioni di euro di cantieri insomma per tutto il territorio ci sono vari cantieri, in poco su tutte le frazioni alcuni di essi già sono in esecuzione, altri a giorni partiranno importanti lavori abbiamo trovato questo slogan, cantieri che cambiano Castellabate è giusto per dare l'idea che ovviamente un intervento, una riqualificazione urbana dà la possibilità di creare qualcosa di diverso a Castellabate cioè dare la possibilità di aumentare la vivibilità del territorio innanzitutto interveniamo su diverse strade, quindi la sicurezza stradale che è un argomento che ne abbiamo sempre messo come priorità per la nostra azione amministrativa ovviamente questo è accessibile dal sito istituzionale del comune di Castellabate quindi il cittadino potrà pigiare dal proprio computer www.comunedicastellabate.sa.it e entra nella pagina istituzionale dove troverà questo link tra i vari link che ci sono nel sito istituzionale troverà il link dei lavori cantieri che cambiano Castellabate